Bus gratuito a Lanciano per raggiungere i seggi nelle contrade dove sono state accorpate le vecchie sedi. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale che in occasione dell'appuntamento elettorale del prossimo 4 marzo ha istituito un servizio gratuito di navette e di collegamento riservato agli elettori delle sezioni che sono state spostate in altre sedi, ad oltre 4 km di distanza dalle storiche ubicazioni. Il servizio verrà svolto per le sezioni numero 27 di Serre, 28 di Rizzacorno, 30 di Villa Ilce, 32 di San Iorio e 43 di Santa Maria dei Mesi. L'accorpamento dei seggi, spiega il sindaco Mario Pupillo, si è reso necessario per motivi di sicurezza e inidoneità dei locali delle vecchie scuole dismesse che sono risultate non adeguate ad ospitare i seggi, i cittadini elettori e le forze dell'ordine come riscontrato da diversi e puntuali sopralluoghi della Commissione elettorale circondariale di Lanciano e dei tecnici del settore lavori pubblici. Sì, per l'efficientamento e perché alcune sedi erano effettivamente non in grado di ospitare le forze dell'ordine e le sedi elettorali. Quindi il prefetto e la Commissione prefettizia ci ha ovviamente imposto un'ottimizzazione per rispondere ai requisiti di legge. Noi per diminuire questo disagio pubblicizzeremo quali sono le sezioni che sono state accorpate e andremo ad effettuare un servizio di navette che permetterà di ridurre il disagio di questo accorpamento che come dicevo prima è stato necessario. Avremo degli orari, quindi delle corse sia al mattino che al pomeriggio che porteranno le varie sezioni nelle sedi che sono state accorpate ovviamente nella sezione elettorale di riferimento. Nel frattempo la macchina organizzativa ha preparato tutto. L'ufficio elettorale ha già predisposto gli elenchi per Lanciano e i 12 comuni del circondario amministrativo che ne fanno parte e per la giornata di sabato 24 febbraio resterà aperto dalle 8 alle 19 per il duplicato delle tessere. In occasione dell'ultimo appuntamento con le urne, infatti, riferiscono gli addetti, c'è stato un affollamento tardivo con il rilascio di 6.000 tessere nuove.